Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. Non andiamo via, ma nascondiamo del dolore, che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, ma se diciamo una bugia, è una mancata verità, che prima o poi succederà. Cambia il vento, ma noi no, e se ci trasformiamo un po', è per la voglia di piacere. Chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare. Siamo tornati a amare, lascia stare, tanto ci vogliamo ritrovare qui. Siamo tornati a amare, lascia stare, tanto ci vogliamo ritrovare qui. Siamo tornati a amare, lascia stare, tanto ci vogliamo ritrovare qui. Siamo tornati a amare, lascia stare, tanto ci vogliamo ritrovare qui. Siamo tornati a amare, lascia stare, tanto ci vogliamo ritrovare qui. Siamo tornati a amare, ancora con noi. un altro, sì, è difficile spiegare, certe due volte amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, nelle nostre notizie a te, ma non staremo stante, neanche quando ti diremo un altro, sì, è difficile spiegare, non staremo stante, neanche quando ti diremo Ah buonasera, eccoci alla fine, allora, tanto per cominciare un immenso grazie a voi per essere stati con noi questa sera, di martedì tra l'altro, che non è scontato, quindi un applauso, fatevelo voi, grazie mille davvero, bella presenza. A sto giro mi sono scritto tutto, comunque avrò dimenticato qualcuno, se ho dimenticato qualcuno non si offenda, ma purtroppo a ogni giro qualcuno lo dimentico. Allora, faccio qualche ringraziamento, parto da Andrea e Mirko in regia, tra l'altro vi do una chitta, non abbiamo neanche fatto un filato oggi, non abbiamo fatto una prova generale perché il video era pronto alle 20 e 20, quindi abbiamo rischiato di non andare in scena o andarci per metà, più o meno. Quindi complimenti ai ragazzi che hanno fatto un lavoro incredibile. A coloro che si sono fatti in quattro per, in quattro? Si sono fatti in quattro per tutto il montaggio video, Mara, Marco, Aurora e Machi. Grazie agli aiuti Luciano, Alessandra, Emanuela, Loredana, Francesco al video e Arianna alle foto, la nostra social media manager che è da qualche parte.